Ciao, oggi sei a Cassino, stai con me esattamente in questo bellissimo giardino di questa struttura nella zona di via Peola. Vediamo sin da subito le potenzialità di questo giardino al servizio di questa porzione di struttura. Partiamo subito dalla vostra destra, grazie alla tecnologia a disposizione, quindi al 360 gradi, potete spostare con il dito sul cellulare o mouse in modalità computer. Quindi partendo dalla vostra destra, vedete per esempio questa pianta di Cicas. Continuando la rotazione vediamo l'illuminazione notturna, una pianta di magnolia, altre piante vicino il cancelletto di ingresso e continuando la rotazione abbiamo questa bella pianta d'olivo. Proseguendo oltre questo giardino troviamo queste...